il è presa? c'è un guadino piccolo allora dimmo, lo cazzo non c'è? io boi non sei grossa non sta nel guadino non sta nel guadino non ce l'ho fatta dai, io te la faccio vado a vedere bui boi sei grosso hai ragione, 20 kg no ma ah, questo è 7 kg allora ragazzi, io sto cercando di prendere il suo galleggiante che si è rotto che ha rotto la lava e con la canva spin cerca di prendere il galleggiante che c'è il pesce attaccato quindi sta provando a prendere già se ci riesce sping alla carpa qui c'è il galleggiante l'hai presa l'hai preso, l'hai preso l'hai preso, l'hai preso, l'hai preso l'ho preso ah adesso vediamo se riusciamo a prendere il galleggiante già sarebbe qualcosa l'ho preso cerca di tirare in qualche periodo per prendere il galleggiante così si prende il galleggiante l'hai preso adesso devi stare zitto capito un pescatore del cazzo che c'è l'hai preso c'è c'è oh bisogna tirare forte lo spacco ancora il pesce? chi è che viene col guadino? lei non ti andrà da ma... si ma fai tirare piano tirare piano ora sta tirando sul pesce a mano ma cosa stai facendo? sto facendo un video poi ti metto su youtube vai vai guarda guarda che arriva col guadino guarda questo qua non ti è scappato questo pesce guarda oh muoviti muoviti c'era lì a mano a mano oh bello muoviti però eh cioè cazzo vai mi fai per perdere un'impa ma che cosa ti pare? orca ecco ma ti butti i dazzo non c'è ma che non sono più ma vedi come mangia? mangia male però vedi? ma mangia male guarda dove ce l'ha attaccata mangia male i labbro proprio per appena vuoi una mano? no lo faccio io dai ci sta nel guadino questo? prova to ci dovrebbe stare ah perché ci stai? si si eeeh ci sta? oh 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 se lo tiro così si rompe no? ecco ecco però non è piccolo no no non è piccolo guarda che oh guarda che oh guarda che oh guarda che è bella è bella quanto sarà questa? 4 kg sai cos'è? che bisognerebbe con lì qua mettersi dei materassini esatto io ci vedo se metti i materassini però il materassino ci vorrebbe ci va via? sei incastrato? eh ci sta il pelo dentro vai non ha paura di niente sarà 6-7 metri dov'è? ma cos'è? un pavone? ah giornata strana questa qui eh prende i pesci hanno preso un cormorano per sbaglio ma non ci faccio credo eh vai 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 cosa sta facendo? non ci credo hai preso con cormorano recupera un po' che va vai grossa? dio cristo pover no no fermo fermo sei stato dai sei liberato sei liberato? dai oh questo va è che va esterà è la è adesso è Grazie a tutti